benedizione degli egetti sacri nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo grazie, misericordia, pace del padre, figlio e spirito santo siano con tutti voi pieni potente tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato perché compiano opera di carità vicendevole ascolta bene le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti possano riconoscerti sempre sono bene e da richiedere fratelli con amore sincero per Cristo nostro Signore e benedica Dio onipotente padre, figlio e spirito santo grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti sei da sempre, ti sei umilato, hai dato te stesso, prendendo il volto del servo, un uomo, diventando simile agli uomini in tutto e non nel peccato. Grazie Gesù. Grazie a tutti. 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 Chi rie e lei son Voi, le vostre famiglie e tutti per chi stasera avete pregato Benedicca Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo